e con un po di ritardo ma per alcune motivazioni abbastanza logiche che oggi vengono anche a spiegare ecco il mio wallet per quanto riguarda il fine mese di gennaio 2022 quindi il primo mese dell'anno del 2022 ma come al solito vi chiedo di lasciare un like se vi piace questa tipologia di video di commentare qui sotto con qualsiasi domanda dubbi o curiosità di andare iscrivervi al mio canale e attivare la campanina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare partiamo subito con il mio wallet cripto gennaio 2022 quest'anno voglio migliorare alcune parti del mio wallet che lo diciamo studiato e ristudiato e ho scoperto alcune falle abbastanza importanti che tra parentesi o anche sottolineato nel libro da tenere sott'occhio ma purtroppo io dato che l'anno scorso avevo ancora l'asset impostato su il bull market non ho tralasciato né in questo primo mese dell'anno ma io adesso vi andrò a spiegare di cosa si tratta andiamo a guardare subito la total asset allocation allora guardate qui cosa ho fatto ho suddiviso in tre macro aree criptovalute come vi ho sempre detto le mie varie criptovalute che detengo nel mio wallet quindi progetti nei quali ho investito liquidità che non è nient'altro che la parte delle stable coin che io detengo e che sono pronte ad andare a ribilanciare il wallet cripto e quindi praticamente vanno a tenere una specie di bilanciamento per riuscire a mantenere in generale un wallet abbastanza equo quindi 50 50 dopo di che stable stable sono nient'altro che sempre criptovalute stable coin ma in una wallet che va gestito in una maniera differente come sapete quest'anno ho diverse spese da portare avanti tra cui cambiare casa e inoltre voglio andare a modificare il mio studio dove momentaneamente sapete benissimo non sono in uno studio ma sono il mio soggiorno con i giochi del bambino con il cane insomma tante cose che ad oggi non mi danno quella produttività che vorrei avere non per essere uno di quelli sfrenati ma perché vorrei andare il mio studio sedermi al computer avere già tutto settato senza dover mettere magari a posto tutti i giochi mettere in ordine pulire e quant'altro ma avere totalmente già le cose già ben impostate e quindi partire direttamente con ciò che devo fare quindi con i miei video ecco quello che andrò a fare quindi andrò a investire anche sotto questo punto di vista e l'investimento si tratta comunque di all'incirca 2000 euro quindi perché devo andare a mettere insomma poi vi spiegherò in un video abbastanza dedicato comunque devo andare a insonorizzare tutto il garage che è attaccato alla casa che ho scelto e poi devo andare insomma a verniciare mettere un po' di cose in ordine a terra per renderlo un po' più vivibile e abitabile dopodiché logicamente andrò a cambiare casa e a sposarmi quindi mi servono determinate quantità di denaro che sto mettendo da parte da diverso tempo è per questo quindi che ho diviso in queste tre macro aree quindi le stable per adesso fino a quando non arriverò all'ultima spesa che dovrebbe essere la caldaia pellet quindi praticamente devo fare diverse spese quindi fino a settembre circa di quest'anno rimarrà totalmente slegato che andrà ipoteticamente a diminuire ma potrebbe anche aumentare in base a ciò logicamente che guadagno perché quello è il mio wallet nel quale vado a depositare come fosse una banca tutti i miei guadagni e li vado a logicamente guadagni esterni dal mio lavoro normale da magazziniere e vado ad aumentare il mio capitale investito in stablecoin e quindi anche con degli interessi annui che si aggirano sul 10-12% mentre quello liquido viene gestito identico a quello stable quindi sono all'interno delle stesse pool le criptovalute però la realtà di fatti è che quelle servono per andare a ribilanciare nei periodi di bear market il portafoglio 50-50 per mantenere comunque delle posizioni interessanti su alcune criptovalute è comunque una quantità di denaro che può continuare a generarmi un interesse e nei periodi di bull market come vi ho detto arriverà la parte liquida fino al 30% dopodiché sotto il 30% incomincerò a levarmi diverse posizioni e quindi a riequilibrare perché dal mio punto di vista la cosa giusta da fare è vero mantenere una posizione in una criptovalute come bitcoin per un futuro ma è anche vero che ad oggi si mangia ancora pagando in stablecoin purtroppo perché le criptovalute hanno una volatilità troppo elevata quindi questo è il mio metodo di gestione del capitale dopodiché andiamo a vedere la distribuzione sono distribuite come sapete in tre piattaforme differenti old quindi su Binance il 30% non è che è soltanto su Binance è su Binance e su BlockFi quindi comunque ci sono diverse piattaforme che vado a utilizzare dopodiché TradeSanta è il bot di trading che utilizzo per andare a fare del trading in maniera automatica ed è su un account Binance e poi la DeFi come sapete io utilizzo PancakeSwap connesso con Autofarm ad oggi volevo spostare tutto su Bifi Finance però non vedo la necessità per adesso allora questa invece è la crypto allocation quindi quali sono le micro criptovalute e come sono suddivise all'interno del portafoglio ecco questa è la cosa che voglio andare a cambiare in quest'anno probabilmente già in questo mese il 95% di bitcoin lo devo portare all'85% perché voglio detenere il 5% in BNB e il 10% in Ethereum e questo andrà ad essere bene o male ribilanciato circa ogni mese barra due mesi a seconda logicamente della volatilità del mercato anche perché non voglio fare troppe operazioni perché ogni volta che si fanno delle operazioni logicamente si perdono dei fondi io momentaneamente ho bitcoin che è un quantitativo maggiore ma è anche vero che questo quantitativo lo voglio portare a 85% non perché non ci credono nel progetto ma perché Ethereum devo ammettere che comunque è un cavallo ottimo e va anche molto più veloce di bitcoin ad oggi quindi non avere neanche il 10% del quantitativo del proprio wallet dal mio punto di vista è un errore dopodiché BNB sappiamo benissimo è la criptovaluta che serve su Binance e quindi può sempre servire per qualsiasi transazione o addirittura per avere le fees minori nelle transazioni e come sapete io utilizzando 3dsanta mi serve avere una percentuale in BNB per riuscire a detenere il meno possibile pagare il meno possibile in gas fees quindi questa è la cosa che andrò a modificare nel mio wallet nel questo mese tra questo e il prossimo mese tra questo e il prossimo mese quindi arriverò a 85% di bitcoin a il 10% di Ethereum e al 5% di BNB dopodiché vi mostro come io gestisco nella parte se fai le mie criptovalute come vi ho già detto bitcoin, ethereum e BNB andrò a utilizzare, anzi continuerò a utilizzare BlockFi all'80% con il mio bitcoin il trading in Binance il 20% perché ho delle posizioni già aperte su bitcoin già nell'account di Binance che è dedicato al trading e in realtà non è trading puro è soltanto delle aperture di posizioni quando bitcoin è calato e le sono andate ad aprire perché voglio andare a incrementare anche la mia liquidità come vi ho sempre detto dopodiché ethereum idem ho il 2% in BlockFi ma avete visto che comunque è piccolissima la percentuale di Ethereum che ho nel mio wallet e il restante in trading di Binance questo perché in effetti volevo prima, ad oggi invece ho cambiato idea perché mi sono reso conto di un errore quindi l'errore delle percentuali prima comunque erano in Binance trading proprio perché avevo aperte le posizioni di trading non grosse ma le avevo aperte e quelle erano state inserite come possibile insomma rivendita per andare a fare dei gain sempre in stablecoin e poi BNB al 100% su Binance perché lo lascio all'interno del vault in questa maniera oltre a generare un mi pare 7% annuo circa mi va a dare la possibilità di poter accedere a diversi servizi insomma BNB è sempre BNB serve per Binance mentre andiamo a vedere l'asset allocation delle stablecoin tra SeFi e DeFi e come vi ho già detto anche se ho le stablecoin diciamo bloccate per quelle spese di cui vi ho già parlato e le stablecoin in liquidità tutte queste sono comunque mischiate insieme perché comunque io ho una suddivisione ben precisa quindi so già quanto deve essere dedicato per le spese che devo andare a sostenere e quanto invece deve rimanere all'interno del mio wallet quindi so facilmente gestire tutto questo per me è molto semplice non c'è nessun problema nel farlo quindi che cosa sto facendo qui ho diviso nelle quattro criptolute che momentaneamente detengo ossia USDT BUSD USDC e UST quindi abbiamo Tether BUSD è la criptoluta stablecoin di Binance USDC è la criptoluta stablecoin di Circle che bene o male diciamo è di Coinbase e UST è la stablecoin di Terra insomma praticamente Terra Luna quindi in questa maniera potete vedere che ho il 16% delle USDT in Binance TS quindi Trade Santa dopodiché l'84% in Pancake più Auto quindi Autofarm dopodiché le BUSD ho il 6% in Binance questo perché sapete anche che io ho attivo su Bitcoin e questo infatti un altro piccolo errore che andrò a modificare quest'anno ho attivo su Bitcoin un pack quindi praticamente vado a comprare settimanalmente 35 dollari di Bitcoin quindi vado a comprare mensilmente 150 dollari in Bitcoin in questa maniera praticamente io vado a crearmi un pack che mi dà la possibilità di poter acquistare in maniera settimanale totalmente in automatico basta che lascio le mie BUSD e mi va ad aumentare insomma il mio quantitativo di BUSD che sto accumulando quelle non sono per trading sono per lungo periodo quindi fino al prossimo halving dopodiché ho il 94% del restante in Pancake Auto idem USDC totalmente in Pancake Auto e USD totalmente in Pancake Auto quindi praticamente ho il totale delle mie stable coin su Pancake Auto e piccole percentuali in Binance per andare a gestire o l'account di trading oppure l'account insomma quello classico del trading in automatico insomma per andare a fare il mio pack su Bitcoin quindi come avete visto io vado a gestire il mio wallet momentaneamente perché ci sono comunque dei momenti un po' particolari in questo frangente del mercato in questa maniera vado a detenere soltanto 3 criptovalute e vado la realtà dei fatti è che ci sono altre cose che detengo come progetti spot ma sono così tanto piccoli ad oggi perché hanno perso tanto valore che io non le inserisco neanche nel wallet sono proprio le mie carte quelle che vado a mettere come diciamo un qualcosa che spero che vada per esempio Demol è un videogame che mi è piaciuto dall'inizio e ho investito ad oggi il mio investimento iniziale che era di circa mi pare 250 dollari è arrivato a 30 dollari cioè non ho voluto vendere perché dal mio punto di vista quando partirà il gioco sicuramente aumenterà il prezzo quella è una scommessa che ho fatto come altre piccole scommesse qui e lì ma sono scommesse così tanto piccole ad oggi rispetto al controvalore che avrei dovuto metterlo 0,4 lo 0,3 e dato che anche già di Ethereum mi vergogna scrivere 0,4 insomma ho preferito lasciar perdere le altre perché sono veramente piccole scommesse che non hanno senso neanche di essere definite tali insomma ad oggi ma ci sono anche dei progetti insomma sui quali vado a diciamo mettere la scommessa il gratte e vinci dal mio punto di vista quindi come vi ricordo ogni volta tutto ciò è il mio modo di gestire mi raccomando imparate a gestire anche il vostro modo senza esagerare vi ricordo di mettere mi piace commentare a voi sotto iscrivervi al canale attivare la campiglia per rimanere sempre al giornale su tutti i video che vado a caricare andare a visitare il mio account instagram davidevasco85 tiktok davidevasco85 e se volete contattarmi su telegram davide in età bassa vasco vi ringrazio per aver visto il video e al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti